Seconda parte di Lavoradio dedicata al change management, ovvero le tendenze che stanno interessando le organizzazioni alle prese con i cambiamenti dettati da un ricambio generazionale lento ma inesorabile, con un conseguente mutamento di paradigma. Qualche mese fa avevamo parlato di social organization con uno dei massimi esperti in Italia, Marco Minghetti, imprenditore, scrittore e giornalista del Sole 24 Ore. Lo abbiamo ritrovato alla Job Matching e ne abbiamo approfittato per chiedergli quali sono i vantaggi del passaggio a questo modello ma prima di tutto di ricordarci cos'è la social organization. È un modello organizzativo che si fonda sul passaggio da funzioni verticali, famiglie professionali tradizionali, modello comando e controllo burocrazie a una rete di community che vivono offline ma anche e soprattutto online utilizzando appunto questi nuovi social software che ogni giorno di più sono messi a disposizione dei grandi player internazionali. Cosa si guadagna ad andare verso o dentro la social organization? Innanzitutto si guadagna un efficientamento che secondo un famoso report che io ho tradotto in parte sul mio blog di 900 il Sole 24 Ore di McKinsey dell'anno scorso è stato calcolato in 1300 miliardi di dollari. Tra l'altro McKinsey analizza solamente 5 settori di business e sostanzialmente in questo report si dice che la trasformazione dell'azienda burocratica tradizionale in social organization vale 1300 miliardi di dollari. Poi ci si chiama McKinsey magari esagerato. Anche se fosse il 50% mi domando quante finanziarie ci facciamo, quanta occupazione giovanile vera riusciamo a sviluppare con una massa di denaro. Quindi innanzitutto parliamo proprio di efficientamento e di recupero di produttività. Ovviamente poi c'è anche tutto un tema di engagement e di ripresa in termini di creatività e di innovazione che grazie a questi social tool si può ottenere soprattutto sulle fasce più giovani che sono quelle che sempre più stanno entrando e che sono normalmente abituate a utilizzare strumenti come gli smartphone, gli iPad e in generale le tecnologie collaborative. Oggi si trovano a entrare in azienda che hanno strumentazioni dell'Ottocento. Tra l'altro è veramente interessante notare come dalla rivoluzione industriale a oggi abbiamo sempre avuto, anzi fino a qualche anno fa, una situazione in cui l'azienda offriva una strumentazione professionale nettamente superiore alla tecnologia che una persona aveva a casa. Oggi la situazione si è ribaltata, cioè possediamo come nella nostra vita privata e individuale degli strumenti che sono molto più potenti rispetto a quelli che offrono le organizzazioni. Ecco, questa è la dice lunga sul gap che le aziende devono recuperare e sui benefici che un modello come quello della social organization può garantire proprio in termini di recupero, di innovazione e produttività di cui un paese come l'Italia che sta rapidamente scendendo non a caso in tutte le graduatorie internazionali ha un assoluto bisogno. Il gap è anche di tipo però mentale? Il mio libro si chiama l'intelligenza collaborativa verso la social organization, proprio a sottolineare che il tema tecnologico viene solo in ultima battuta. Innanzitutto c'è un problema di ridefinire i modelli strategici, i modelli di business e soprattutto i modelli mentali e culturali a cui siamo abituati perché le logiche della social organization sono esattamente il contrario del modello teloristico, management 1.0. Quindi c'è proprio un problema evidentemente di management che deve adattarsi a queste nuove modalità.